Purtroppo è un processo iniziato male sin dalle prime fasi di indagini, funestato da contrasti all'interno degli stessi organi di polizia giudiziaria che indagavano e infine deragliato in un procedimento parallelo per depistaggio, per fatti che invece erano strettamente connessi al processo principale che avrebbero potuto, qualora presenti nel perimetro di vaglio del giudicante, fare la differenza. È il commento, il giorno dopo la sentenza per la tragedia di Rigopiano dell'avvocato Patrizia D'Agostino, difensore civile di Rossella del Rosso, sorella di Roberto, il proprietario dell'hotel Rigopiano di Farindola, tra le 29 vittime della valanga che travolse l'albergo il 18 gennaio 2017. Dalla lettura del dispositivo, il nesso causale tra evento e condotte penalmente rilevanti sembrerebbe ristretto alla sola fase emergenziale, il che, seppur coerente da un punto di vista processuale, contrasta con l'orientamento della procura che, sin dalle prime fasi di indagini, ha ritenuto di escludere dal perimetro delle responsabilità i vertici della protezione civile regionale, fortemente coinvolta invece negli eventi che caratterizzavano quei giorni in Abruzzo, sottolinea D'Agostino. Questa assenza ha comportato la condanna solo per alcune responsabilità marginali dell'intera vicenda. Leggeremo le motivazioni e tali scelte, prosegue il legale, principalmente per comprendere il perché non siano state considerate penalmente rilevanti le condotte rilevanti nella fase dei soccorsi, specialmente per coloro che, pur a conoscenza del dramma che si stava consumando a Rigopiano, sollecitati in ogni modo sin dalle prime ore della mattina del 18 gennaio, da Rossella del Rosso in provincia e da Gabriele D'Angelo con le telefonate al COC di Penne e in prefettura, pur potendosi attivare sin dalla mattina per prestare soccorso ed evacuare la struttura, sono stati ritenuti responsabili, conclude il legale, per le loro azioni.